Ciao e benvenuti nel canale, io sono Mizzar e oggi siamo per presa con la penultima missione di Commandos, la missione numero 19. In tutto sono 20 missioni, questa appunto è la penultima, finalmente. Vediamo come affrontarla, ma prima... SIGLA! Gennaio 1945, mentre l'intera Francia è stata finalmente liberata dalle truppe alleate, i sovietici hanno raggiunto la devastata Varsavia. Berlino è la prossima meta dell'armata rossa. Nel frattempo i missili V2, l'ultima speranza del Führer, cominciano a essere lanciati contro Londra e altri obiettivi alleati. Nei voli di ricognizione ero scoperto un centro di lancio V2 in un piccolo eseguamento industriale a Hodenburg, a ovest di Brevo. Dovete distruggere le rampe di lancio prima che i missili portano verso Londra. Allora, ufficiale, inizierete da questa posizione e distruggerete queste tre rampe di lancio. Fate attenzione se attraversate i fiumi. La corrente è impetuosa. Non potrete risalirne in corso. E il camion leggero e il nastro trasportatore possono essere delle ottime strade per infiltrarsi nell'avate. Una volta che avrete completato la missione, raggiungete il punto di evacuazione. Buona fortuna, ufficiale. È tutto. Non sarà facile. Non sarà affatto facile. Ci sono anche i camion, è fantastico. Ok. Allora. Portiamo i soldati da questo lato. Subito, signore. Il barretto verde e l'ingegnere li portiamo qui. Arrivo. Ci sono. Ok. Perfetto. Adesso noi con il barretto verde e con l'ingegnere dobbiamo pensare l'esca per poter uccidere questa guardia qui. Quindi vediamo l'agenziazione di questa guardia. Sto arrivando. La consideri cosa fatta? Sì, signore. Bene, signore. Affermativo, signore. Ricevuto, signore. Ok. Ok, signore. Perfetto. Adesso col barretto verde ripiazziamo l'esca. L'esca. Arrivo. No, ragazzi. Non mi convince. Sta troppo nascosta. Questo soldato qui lo vedrà. Devo spostare l'esca. Allora. Piazziamo nel frattempo l'esca del barretto verde. Sto arrivando. Sì, signore. Sì, signore. Sì, signore. ricevuto, signore. Affermativo, signore. Ricevuto, signore. Ok. Mettiamola qui. Ci penso io. Affermativo, signore. Ok, signore. Sarò lì in un batter d'occhio. Ok, adesso... Affermativo, signore. Vediamo se sistemiamo questa guardia. Sperando che questa non la veda. Nessun problema. La consideri cosa fatta? Perfetto. Adesso, riportiamo... No, che palle. Sì, signore. Vediamo se quel cecchino riesco a sistemarlo. Va bene. Va bene. Fin quando lo fa scattare l'allarme. Va tutto bene. Come fa? Perfetto, ragazzi. Va bene così. Pensavo scattasse l'allarme invece. Ok. Bene così. Perfetto. Adesso... Vediamo... Me ne occuperò io. Bene, signore. Torniamo qui. Arrivo, signore. Ok. Nessun problema. Sì, signore. Recuperiamo... L'esca. Sarò lì in un batter d'occhio. Ok, signore. Ricevuto, signore. E andiamo qui. Bene, signore. Ci penso io. Bene, signore. Adesso dobbiamo fare più o meno la stessa cosa che abbiamo fatto... Da questo dato. Me ne occuperò io. Ci sono. Sto arrivando. Arrivo. La consideri cosa fatta. Dobbiamo fare la stessa cosa per queste tre guardie qui. Ci sono, signore. Immediatamente, signore. Oh no. Sì, signore. Ci penso io. Ok, signore. Con l'ingegnere, piazziamo l'esca. E andiamo a nasconderci. Ci penso io. Stessa cosa facciamo col barretto verde. Me ne occuperò io. La consideri cosa fatta. E ci andiamo. Nessun problema. Ci sono. Ok. La consideri cosa fatta. Adesso attivo l'esca. Facendo comunque attenzione a queste guardie qui, perché non devo sentire il ruore dell'esca, del barretto verde. Dobbiamo tirare solo questa guardia qui. Nessun problema. Perfetto. Eh, che palle. Io lo sapevo. Sì. Arrivo. Subito. Sì. Va bene. Ok. Non era il programma, il cecchino, ma... Va bene così. Adesso cerchiamo di attirare l'attenzione di questa guardia qui, magari con un bel cadavere. Allora. Sì, signore. Bene, signore. Ricevuto, signore. Sarò lì in un batter d'occhio. Me ne occuperò io. Ci penso io. Sarò lì in un batter d'occhio. Affermativo, signore. Ok. Nessun problema. Sì, signore. Bene, signore. Ricevuto, signore. Affermativo, signore. Ok, signore. Allora. Ci sono. Ok. Sto arrivando. La consideri cosa fatta. Potrei... Prendere questo cadavere. Piazzarlo qui. E avanti al cadavere la trappola del... Del... Dell'ingegnere. Arrivo. Potrebbe funzionare. Me ne occuperò io. Sì, signore. Vediamo se funziona. Sarò lì in un batter d'occhio. Affermativo, signore. Allora. In teoria... Bene. L'odore è un bel... Ok, signore. Ci penso io. Ricevuto, signore. Bene, signore. Ok, signore. Perfetto. Ci penso io. Sarò lì in un batter d'occhio. Ci penso io. Affermativo, signore. Bene, signore. Ricevuto, signore. Allora, adesso col barretto verde... Proviamo a piazzarli il cadavere. Ok. Arrivo. Ci sono. Nessun problema. Me ne occuperò io. Dai bello, dai bello, dai bello. Perfetto. Sto arrivando. Arrivo. Sto arrivando. La consideri cosa, Pat? Ok. Me ne occuperò io. La consideri cosa, Pat? Ci sono. Recuperiamo anche... Sì, signore. ...la nostra trappola. Sarò lì in un batter d'occhio. Nessun problema. Ci penso io. Ok, signore. Perfetto, ragazzi. Adesso possiamo avanzare. Ok. Arrivo. Avanziamo. Sto arrivando. La consideri cosa, Pat? Un barretto verde. Arrivo. Ci sono. Nessun problema. Dobbiamo cercare di uccidere questa guardia qui. Per farciò, rimettiamo la resca. Ok. Me ne occuperò io. Ci sono. Nessun problema. La consideri cosa, Pat? Me ne occuperò io. la consideri cosa, Pat? Ok. me ne occuperò io arrivo ok la consideri cosa fatta nessun problema arrivo ci sono la consideri cosa fatta adesso dobbiamo cercare di portare anche il gruppo qui ok va bene subito ricevuto signore ricevuto signore sarò lì in un batter d'occhio subito signore immediatamente signore sì sto arrivando nessun problema ok perfetto adesso dobbiamo raggiungere questo lato qui arrivo ci fermiamo qui sto arrivando ok piazziamo l'esca qui va bene me ne occuperò io sì torniamo indietro nessun problema ma consideri cosa fatta ci sono sto arrivando arrivo me ne occuperò io ci sono ok ci sono ok nessun problema me ne occuperò io perfetto ok ragazzi siamo già siamo insomma alla fine ne abbiamo di strada da fare ancora qua c'è il camion che arriva va bene vediamo come procedere ok adesso col cecchino arrivo subito vediamo di sistemare sì 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 ok va bene adesso adesso col cecchino dobbiamo sistemare questa guardia qui prima però il barretto verde sistemiamo questa guardia qui allora arrivo arrivo me ne occuperò io la consideri cosa fatta ok subito sì va bene adesso vediamo di entrare col barretto verde cerchiamo di entrare qua dentro con il barretto verde ok adesso col cecchino avvenziamo ok e finiamo di sistemare questa guardia qui va bene arrivo sì sì va bene sì ok 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 arrivo ho sbagliato scusate ok adesso col barretto verde devo cercare di entrare qui dentro allora sto arrivando la consideri cosa fatta allora arrivo col barretto verde scaliamo la recensione me ne occuperò io mentre col cecchino sistemiamo il soldato che cammira ok ok sì la consideri cosa fatta sì un perletta arrivo nessun problema ci sono sto arrivando sì va bene subito la consideri cosa fatta nessun problema ok perfetto ok adesso dobbiamo cercare di sistemare questi razzi per quanto poi il cadavere non viene visto perfetto bene così che può venire qui nessuno che culo fatemi esaminare bene la situazione sembra che nessuno si sia accorto del cadavere ok 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 ragazzi la missione continua ok allora adesso vediamo devi struggere questi razzi finalmente però devo anche avere la via di fuga altrimenti sono cacchi allora vediamo un po' vediamo un po' vediamo un po' vediamo un po' arrivo prendiamo questi bidoni sì nel frattempo facciamo uscire gli altri soldati sì signore sì signore sì signore ricevuto signore sì sì signore portiamoli già verso subito signore la fila con il barretto verde abbiamo detto di recuperare affermativo signore i bidoni sto arrivando me ne occuperò io nessun problema la consigli di cosa fatta me ne occuperò io ok ci sono nessun problema sto arrivando sto arrivando è l'ultimo bidone arrivo ci sono ok me ne occuperò io ci sono ovviamente di qua ma consideri cosa fatta devo per forza uscire da qua di nuovo ok sì vediamo come va col cecchino abbiamo due colpi quindi uno ok vediamo di giostrarci bene arrivo ok vieni qua ok me ne occuperò io torniamo fuori ma consideri cosa fatta con il nostro berretto verde nessun problema ragazzi dobbiamo aggiungere gli altri però prima sto arrivando devo tornare un attimo indietro perché questo baule è un po' troppo nascosto nascosto siccome questo questo qui e questo qui me lo devo fare far latinare con il cecchino devo tirarlo un po' più esposto nessun problema ne scoperta Nascosto arrivo ok 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 per l'arrivo arrivo 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 ok 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 così si così dire che c'era una bomba qui ok ragazzi ci siamo vediamo di sistemare una volta per tutti questi razzi V2 ok signore no 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 che cosa bene signore ok ci penso io bene signore si va bene perfetto ragazzi ci sono barca e diamocela a gambe wow ragazzi ce l'abbiamo fatta bene che altro dirvi ragazzi spero che il video vi sia piaciuto manca finalmente una sola missione la missione numero 20 cioè l'ultima questa era la 19 vediamo come affrontare l'ultima missione per adesso spero che questa missione vi sia piaciuta come sempre mettete mi piace scrivete nei commenti se avete qualche dubbio qualche perplessità cerco di aiutarvi detto questo grazie per aver visto ciao aglio e al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.